Talamo, buona domenica prof Buona domenica a lei Camilla Allora no, ci diamo del tu prof abbiamo detto, ecco Allora prof, la ricerca diciamo che apparsa sulla prestigiosissima rivista Nature una rivista di scienze molto importante una ricerca che porta il tuo nome e ovviamente quello del tuo team, una ricerca rivoluzionaria, allora Homo sapiens reached the higher latitudes of Europe by 45.000 years ago Di che cosa si tratta? Allora, finalmente abbiamo scoperto un nuovo gruppo di Homo sapiens che intorno ai 45.000-47.000 anni fa, che viveva in Germania, nella grotta di Ranis e questi Homo sapiens, pur essendo contemporanei all'Homo sapiens che ti avevo portato l'altra volta della grotta della Bulgaria e avendo tratti anche geneticamente simili a loro, sono in realtà diversi, perché diversi? Perché affrontavano il territorio in modo diverso e fabbricavano utensili diversi Ora, grazie alla datazione al radiocarbonio e anche ad altre analisi isotopiche noi siamo riusciti a vedere che questi Homo sapiens vivevano in un ambiente molto freddo quasi glaciale e ovviamente per questo dovevano cacciare animali diversi come per esempio il mammut e con utensili diversi da quelli che invece vengono fatti in Bulgaria Quindi, prof, che cosa, perché è così importante questa scoperta per la nostra conoscenza? Questa ricerca è così importante perché proprio queste frecce che vengono, queste punte che vengono viste adesso sullo schermo sono, diciamo, per la prima volta vengono attribuite all'Homo sapiens fino adesso questi ritrovamenti, questi utensili che hanno un'estensione geografica molto ampia si ritrovano in Polonia in grotte in Polonia in grotte nella Repubblica Ceca nella Germania in Belgio fino all'Inghilterra fino adesso queste punte non si sapeva a chi attribuirle all'Homo sapiens o al Neanderthal invece, adesso, grazie alla scoperta di 13 ossa come in questo caso questa che vedete sullo schermo di umani il DNA ci ha permesso di dire che questi erano prodotti dall'Homo sapiens perché? perché noi vogliamo sempre capire chi ha fatto chi e chi ha fatto cosa nella preistoria forse per poterci, diciamo così attribuire il merito di essere una specie di successo una specie l'unica specie umana presente sul pianeta quindi se ho capito bene, prof la vostra scoperta è importante perché aiuta a ridatare in maniera corretta ritrovamenti di reperti e attribuirli a popolazione che magari fino adesso era un pochino più confuso cioè siete riusciti a stringere la forbice della datazione anche questo, sì siamo riusciti a fare in questo modo delle date sempre più precise e attribuirle a, diciamo a popolazioni che magari non si sapeva della loro esistenza in quel momento esatto, grazie diciamo all'analisi in combinazione con altre discipline come il DNA in questo caso siamo riusciti ad attribuirle all'Homo sapiens così vecchio ecco e un'altra cosa importante sempre parlavamo del radiocarbonio 3.0 che vi aiuta a datare le cose so che siete stati in Portogallo per una missione altrettanto importante peraltro è una storia affascinantissima perché quando me l'hanno spiegata gli autori io sono rimasta cioè queste maree che vanno voi avete solo due ore allora raccontala tu ecco intanto guardiamo le immagini perché vi aiuta a capire allora esatto allora noi andiamo alla ricerca di queste alberi fossili in questo caso ne abbiamo trovato una foresta intera sotto l'oceano atlantico sulle sponde di questa spiaggia di Furaduro in Portogallo e praticamente abbiamo solo due giorni l'anno due ore al giorno perché la marea si ritira e ci permette di trovare di ricercare questi alberi fossili no ma io la trovo una cosa affascinantissima cioè due ore al giorno per due ore voi dovete scavare come se non ci fosse un domani veloce 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 che rischia la marea veloce io vi immagino le voci là dietro di questo signore esatto con la sega elettrica e voi avete giustamente siete proprio col cronometro assolutamente e ne avete ritrovati quanti? adesso questa è stata una spedizione molto fortunata perché in questo caso ne abbiamo ritrovate quattro ma in totale in tutte le spedizioni siamo a quota 20 alberi e questi sono alberi di che epoca? che cosa stiamo vedendo? questi hanno alberi sono vecchi di 30 mila anni meraviglioso esatto e questo ci permette di avere un'età calendario molto più precisa era la storia che ti dicevo l'altra volta ossia che se un archeologo del futuro arriva qui e pensa che tu stai intervistando Cleopatra o che hai stretto la mano a Giulio Cesare invece con il radiocarbonio 3.0 gli alberi ritrovati la datazione riesce a essere più precisa esatto è come se tu stessi intervistando Liz Taylor che ha interpretato Cleopatra nel 1963 questo c'è sempre un errore ma di quanti anni? di quanti anni? parliamo di 60 anni cioè voi avete una possibilità di errore nella datazione dell'archeologia più o meno di 60 anni stiamo costruendo questa che non è niente è molto preciso già questo diciamo che è più realistico darebbe una prof il tuo nome è stato associato di nuovo in un'altra pubblicazione scientifica per quanto riguarda la scoperta di una tavoletta con inciso il sistema di scrittura a Rapanui cioè l'isola di Pasqua perché è così importante questa tavoletta? allora con le datazioni di queste quattro tavolette noi abbiamo fatte in legno su cui sono incise questo tipo di scrittura che al momento non è decifrato che si chiama Rongo Rongo ora le datazioni di queste tavolette tre sono attribuite a un periodo intorno al XIX secolo e una di queste del XV secolo perché è così importante? perché noi abbiamo capito che con quella più vecchia quindi quella del 1400 siamo riusciti diciamo a interpretare il fatto che la scrittura questo tipo di scrittura fosse nato proprio in loco a Rapanui perché gli europei arrivano solo nel 1720 quindi è antecedente all'arrivo degli europei esatto però ricordiamoci che noi abbiamo datato il legno cioè nel momento in cui il legno è stato tagliato non nel momento in cui l'hanno inciso però questo ci fa pensare che da lì a poco devono aver lavorato la tavoletta nonché inciso e quindi da lì che nasce la scrittura ora io non entro nel merito della scrittura perché questo è il compito della professoressa Silvia Ferrara che col suo gruppo di ricerca in scribe lei sta veramente rivoluzionando la ricerca sulla nascita della scrittura ma quello che mi preme dire qui è che due discipline completamente diversi due gruppi di ricerca finanziati dall'Unione Europea come in scribe e il mio di resolution si sono amalgamate per riportare una ricerca unica e sorprendente e quindi questo che cosa ci dice che la multidisciplinarietà funziona oggi come oggi deve essere alla base prof una multidisciplinarietà peraltro nel tuo caso composta per lo più da femmine da donne nel tuo team che immagino che questa cosa ti renda anche non so orgogliosa in un mondo magari in cui troppo spesso ci lamentiamo ecco il tuo team brave bravissime quindi ovviamente le congratulazioni i complimenti vanno estese a tutte le tue colleghe prof io ti ringrazio per essere stata con noi per averci spiegato posso chiedere velocemente su che cosa stanno lavorando adesso prima di lanciare il prossimo video l'ultimo è stata questa sorprendente ricerca che abbiamo reso visibile l'invisibile ossia col mio gruppo di ricerca e anche il gruppo dell'Università di Genova Dipartimento di Farmacia noi siamo riusciti a vedere con una fotocamera collegato al vicino infrarosso adesso è troppo difficile ma a vedere la quantità e dove è il collagene all'interno di ossa antiche questo che cosa ci permette di fare di minimizzare la distruzione del campione perché il radiocarbonio comunque è un metodo distruttivo e così salvaguardare quelle ossa di Neandertal e di Homo Sapiens e di Futuri grazie grazie a tutti grazie a tutti